Eccoci qui a vedere in anteprima Club Joker, il nuovo Club Joker City nuovo Club Joker City su Ford Transit, sul nuovo Ford Transit che poi più tardi diventerà anche più avanti appena arriveranno i nuovi Volkswagen Transporter diventerà anche lo stesso allestimento su Volkswagen Transporter allora cosa vediamo? vediamo delle cose anche carine no? vediamo un mobile lucina qui vediamo i sedili singoli che corrono sulle rotaie da in fondo a in cima alla macchina vediamo anche questo vediamo il letto posteriore a falde che ci richiama quello di Kepler 6 o quello di Bryant Sport la funzionalità è sempre la stessa quella di avere un veicolo che si trasforma da autovettura a furgone a camper in poche mosse molto apprezzato perché appunto sostituisce egregiamente l'auto permettendo di avere un veicolo della dimensione di un'auto e che però ha tutte le caratteristiche del veicolo polivalente lunghezza 5 metri e 50 centimetri per cui ci si sta tranquillamente bene ciao a tutti dalla Fiera di Stoccarda a Giuliano dell'Auto Roen www.autoroen.it 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 di Giuliano Pezzini il canale da Youtube a cui iscriversi 340 718 3988 il mio numero di telefono ciao grazie a tutti buona giornata